ciao a tutti bentornati sul mio canale io sono De Simone Alessandra e volevo fare alcune precisazioni sul video che ho fatto in precedenza sulla semina dell'aglio allora abbiamo detto che innanzitutto l'aglio che noi diseminiamo è un aglio una semina antica che noi abbiamo da tanti anni nella nostra azienda tramandato da mia nonna ovviamente quando noi andiamo a preparare gli spicchi dell'aglio lasciamo solo quelli grandi di spicchi tutti grandi e la parte centrale cioè quelli più piccoli che non sono dati alla semina in quanto poi verrebbero fuori degli agli piccoli li teniamo per il consumo umano per altri scopi insomma e quindi come ben vediamo abbiamo selezionato manualmente tutti i semi migliori dell'aglio poi andiamo a metterli a dimora ovviamente mi raccomando quando andiamo a metterli a dimora cerchiamo di mettere in un terreno non troppo ricco di sostanza organica quindi noi in questo l'anno scorso avevamo i fagioli quindi già di per sé il fagiolo ha arricchito il terreno di azoto infatti quando noi andiamo a vedere che tiriamo fuori una pianta di fagiolo dal terreno vediamo che le radici sono e sono presenti nelle radici delle palline bianche quello è azoto che viene rilasciato naturalmente poi nel terreno l'anno successivo quindi non concimiamo il terreno né con concimi chimici che non servono a nulla impoveriscono solamente il terreno né e tantomeno con concimi naturali tipo il letame perché l'etame farebbe diventare la pianta molto grande ma impedirebbe la formazione del bulbo anzi addirittura potrebbero danno ma facendolo marcire in qualche caso quindi dove mettiamo l'aglio la cipolla le bulbose poco letame e più che altro rotazione delle colture quindi dove ci sono stati i fagioli ci mettiamo l'aglio la cipolla terreno povero di sostanza organica ragazzi spero che questa spiegazione vi sia utile mi raccomando se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e non dimenticate di iscrivervi al mio canale ciao al prossimo video